Ciao a tutti ragazzi, sono Dark Andros e anche oggi scopriremo perché le foche sono degli animali superiori. Ho ragazzi un video veloce e preciso per darvi una comunicazione ufficiale. Giovedì 4 e venerdì 5 maggio io e Victor Laslo88 saremo presenti all'inaugurazione di un nuovo locale a Chivasso, che in provincia di Torino sono circa 10 quarto d'ora di macchina da Torino, in via Isonso 2 a Chivasso, per l'inaugurazione di questo nuovo locale che si chiama AIP. Saranno due giorni di nerdaggine e croccantezza con me e Victor Laslo88 in cui ovviamente siete tutti invitati. Il programma sarà molto fitto, faremo un sacco di cose interessanti, ci sarà veramente tanto tempo per mangiare, bere e chiacchierare in compagnia. Il programma in linea di massima è questo, giovedì 4 maggio. Alle 14 avrete la possibilità di farci domande, quindi di chiacchierare, fondamentalmente un'oretta in compagnia di chiacchiericcio. Alle 16 parleremo, dalle 16 circa alle 16, 16, 16 e 30, parleremo della nostra esperienza e di come aprire effettivamente un canale su YouTube. Le differenze che ci sono tra aprire un canale oggi e aprire un canale quando lo abbiamo aperto noi. Alle 17 faremo delle riflessioni sul mondo dei nerd, come si configura il nerd moderno e che cosa comporta fondamentalmente essere dei nerd. Grande appuntamento oltre in serata, alle 20, dove parleremo della differenza tra cinegaming e cinefumetto. E alle 21 ci ritaglieremo anche uno spazio dove parlare di aneddoti e curiosità sul mondo dei videogiochi. Il 5 di maggio riparte la croccantezza alle 11 e 30, dove parleremo di come effettivamente creare un format su YouTube. Quindi che cosa comporta, quali possono essere tutte le difficoltà ed eventualmente anche come affrontarle. Dalle 12 e 30 alle 13 e 30 la croccantezza sprizza perché faremo un lifestyle cinematografico sui cliché fondamentalmente del cinema e della vita sociale e di come si rapportano con effettivamente la realtà di tutti i giorni. Quindi sarà sicuramente un argomento molto molto interessante da trattare insieme e ovviamente sarà un ottimo momento per fare delle domande. Dalle 16 alle 17 parleremo della differenza tra creare un programma di cucina su YouTube, come può essere il Dark Andros Cooking Show, e un programma di cucina in televisione. Quali differenze? Perché? Come? Dove? Soprattutto quando? Alle 19 la croccantezza si sprega perché faremo un cooking show live, quindi sarà veramente veramente croccante. Inoltre alle 20 parleremo del ruolo del cibo nel cinema e ci gusteremo anche un film che verrà proiettato per l'occasione. Bene ragazzi, penso di avervi detto tutto. Vi ricordo che c'è il video annuncio di VictorRas88 che lo trovate nella descrizione oppure nella i qua in alto. Vi aspettiamo il 4 ed il 5 maggio in via Isonzo 2-C a Chivasso per due giorni di croccantezza. Vi ricordo inoltre di seguirmi sui social, su Instagram, su Facebook e su Twitter per rimanere sempre aggiornati sulla croccantezza perché è il modo più veloce per sapere esattamente che cosa sta succedendo, che cosa sto preparando e quali sono i prossimi video che pubblicherò. Quindi mi raccomando, il 4 e il 5 maggio a Chivasso in via Isonzo 2 all'inaugurazione del locale Hype con Dark Andros VictorRas88 e noi ovviamente ci vediamo sempre qui sul canale con il Dark Andros Lifestyle e con il Dark Andros Cooking Show. Troccante!